Musica Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa contro informazione del 10 aprile a cura di Cogito Ergo Sum. Questi principali titoli per oggi dei blog di informazione alternativa sul web. Partiamo dal blog di Maurizio Blondet. I Tomox hanno centrato i bersagli a Washington. L'attacco militarmente è stato insignificante. Col passare delle ore si è consolidata la sensazione che i missili lungi dal fare cilecca avevano colpito alla perfezione i loro bersagli, che non sono in Siria ma in Washington. Hanno incenerito parecchi argomenti dei numerosissimi avversari di Trump. Dal blog Il Cambiamento, la non politica energetica italiana è alla canna del gas. Invece di proiettarsi nel futuro fatto di risparmio, efficienza energetica ed energie rinnovabili, in Italia il governo percorre ancora la preistoria dei combustibili fossili. Ora altra economia, una legge storica in El Salvador, messa al bando l'industria mineraria. Il Parlamento del più piccolo paese del Centro America chiude le porte allo sfruttamento delle riserve di oro e d'argento. È il primo al mondo. Una scelta necessaria per tutelare un territorio densamente popolato. Quindi dalla Narca, blog di Giampaolo Rossi, Macedonia di Soros. Il 27 febbraio del 2012, la Open Society di George Soros ha stipulato un accordo con il governo degli Stati Uniti di oltre 2,5 milioni di dollari per realizzare in Macedonia il Civil Society Project, il piano di democratizzazione alla Soros della piccola nazione balcanica attraverso una serie di ONG e associazioni macedoni. Poi l'opinione pubblica, il caso del doping russo. Un libro ci spiega cosa è successo l'estate scorsa a Rio. Dubbi sulle prove contro la federazione russa e sulla commissione che le ha presentate. Piccolo ma ben documentato saggio di Enrico Vigna. Quindi da Meridio News, curarsi con la cannabis in farmacia costa troppo e in Sicilia parte l'autoproduzione. Alcune associazioni lanceranno nelle prossime settimane una provocazione. Doneranno un seme agli iscritti invitandoli a farlo fiorire. Ed infine da Umanità Nova, il Capitale e gli anarchici. Articolo sul rapporto tra marxismo e anarchismo in occasione dei 150 anni della pubblicazione del primo libro della famosa opera di Marx. Con questo è tutto, finisce qui la rassegna stampa contro informazioni di oggi 10 aprile a cura di Cogito Ergo Sum. Se volete segnalarci blog e articoli, fatelo nei commenti e nell'articolo che troverete nel blog all'indirizzo www.cogitoergo.it o sotto il video. Se vi è piaciuta la rassegna stampa, condividetela sui social per diffondere l'informazione. Un saluto a tutti, a domani! Grazie! Grazie!